E' in svolgimento nel centro addestramento Ariosto, presidio regionale UCIS, Unità Cinofile Italiane da Soccorso, il primo corso teorico pratico rivolto alle unità cinofile da soccorso, esordio assoluto per la nostra regione. Tra lezioni in aula e sul campo, 25 unità cinofile sono seguite dal dottor Massimo Floris, che tratterà il tema benessere funzionale del binomio cane-conduttore, dottor Daniele Perez, esperto giudice addestramento tecnico del cane da soccorso, e il tutto sotto l'attenta supervisione del padrone di casa, il cavaliere Mario Ariosto. Sentiamo allora il presidente nazionale dell'UCIS, cavaliere Bruno Piccinelli, e uno dei relatori, Daniele Perez. Questo è un corso proprio fatto ad hoc per le unità cinofile, cioè per insegnare l'apprendimento al cane con i metodi di oggi e non i metodi di prima, cioè il cosiddetto metodo gentile. Pertanto c'è bisogno di imparare ancora, c'è bisogno di usare delle tecniche per i cani da soccorso che non siano quelle usate per altre discipline, per cui qui dobbiamo usare delle tecniche molto dolci, molto in rapporto col cane uomo, perché poi il cane deve andare a cercare una persona, per cui deve essere istintivo che va a cercarla con gioia, con voglia di trovarla, per giocare, per stare con l'uomo. Ecco, questa è la disciplina nuova, questo è il metodo nuovo per insegnare i cani. I centri di addestramento come questo stanno facendo passi da gigante. Qui abbiamo una struttura molto bella, molto adatta all'ambiente, il gruppo locale è veramente un gruppo di appassionati. Io sono venuto qui molti anni fa e ho visto dei miglioramenti da tutti i punti di vista, dal punto di vista strutturale, perché io credo che questo sia uno dei più bei centri che abbiamo in Italia. Diciamo tra i tre o quattro più belli d'Italia, abbiamo qui della gente appassionata, abbiamo qui della gente che ha capito il significato del cane al soccorso e abbiamo visto che dalle prime volte oggi abbiamo fatto passi da gigante, come si dice. Per cui diciamo che la Sicilia non è più isolata, ma è pari al resto dell'Italia. Quello che più è positivo è che hanno dei cani nuovi, cani giovani, di buone qualità caratteriali e tutti hanno il piacere di imparare questo metodo, non è proprio gentile, è un mezzo e mezzo, una volta si usava un metodo un po' troppo duro con i colari di ferro, si faceva al cane, si lavorava un po' troppo con costrizione. Oggi invece si lavora col cane facendolo ragionare e dannogli dei premi appena esegue quello che noi vogliamo. Nei cani da soccorso, come in tutte le discipline, la cosa fondamentale è l'obbedienza. C'è un grande istruttore tedesco che dice che l'obbedienza è la regina di tutte le discipline e perciò bisogna iniziare dall'obbedienza per poi arrivare a fare la ricerca in superficie o nelle macerie. Adesso possiamo far vedere un cuccioletto di due mesi, cosa si può fare con questo piccolo, facendo ragionare il cane, anche se ha due mesi, però si può già ottenere degli ottimi risultati.